ben tornato qui nel nostro studio a Max Paiella ciao Max grazie grazie è sempre un piacere stavo vedendo qua fuori la copertina dell'ultimo cd di aereo e le storie tese ho riso per cinque minuti è una copertina in cui si vedono loro a petto nudo con dei muscoli clamorosi ha detto e pubblicheranno una nuova raccolta dove in realtà saranno nudi nella parte sotto è bellissimo la voglio subito la voglio subito e passiamo a devi sapere qualsiasi cosa dirà di questo spettacolo noi siamo d'accordo ok anch'io lo sai che su quello su qualsiasi cosa voi potreste dire affermare ma anche su quello che avete detto magari durante tutta la giornata anche se non lo sentite io comunque sappiate che sono d'accordo con voi cioè sappiate proprio su tutta la linea ed è importante è importante proprio questo fatto di essere d'accordo perché diciamo la figura dello yes man la figura un po' del dell'uomo che dice di sì a tutto purché pur di rispettare i desideri di più pur di non di soddisfare ecco le necessità degli altri è secondo me una figura abbastanza attuale io quest'estate mi sono letto il conte di monte Cristo che sembra un libro così insomma un libretto così invece penso che sia il libro più bello che abbia mai letto di precisione di un'attualità incredibile parla di trasformismo parla di di banchieri di banche assassine di banche che ti rubano fino all'ultimo centesimo in un'epoca in cui uno immagina al ben altre un instant book sì sostanzialmente cioè parla di banche parla di trasformismo parla del cittadino onesto arrestato ingiustamente lui neanche sa perché invece era fra un ubriaco un altro invidioso un altro innamorato di Mercedes ecco va bene adesso per far vedere che ho letto il conte di monte Cristo in modo che così dico vabbè questo è anche un uomo di cultura è un uomo di cultura questo mi legge i libri no è sostanzialmente ma molto colpito e con grande sincerità appunto riaffermo che è una figura abbastanza attuale quella del della persona che vorrebbe vorrebbe fare le cose fatte bene cioè sostanzialmente vorrebbe essere onesto vorrebbe pagare le tasse vorrebbe fare tutta una serie di cose però in qualche maniera c'è una sottocultura che in cui ti fanno ti fanno ti fanno chietto quello che dice ma no ma in fondo ma che te frega ma non le pagare le tasse ma figuriamo ma mai vati ma 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 si si arrogante con con i più deboli e prono con i più forti insomma che ti conviene ti conviene insomma c'è questa questo questo sapore nell'aria ecco però noi non siamo soltanto in qualche maniera voglio fare una frase retorica non siamo solamente con l'italia da bere non siamo l'italia degli schettino che accusano il cameriere il mozzo lavapiatti noi siamo anche i sandro pertini insomma siamo anche altro possiamo anche essere altro specialmente in un momento di crisi secondo me poi alla fine esce un po fuori questo fatto tutto sommato ed era una cosa per me importante da dire ovviamente sono un cazzaro quindi non posso a un certo punto evitare di prendere di petto la parte comica e quindi alleggerire ecco questo discorso questa pippa un po che vi ho fatto inizialmente con una serie di personaggi molto più leggeri quindi c'è questo cantante che tutti copiano che si chiama lecca culio c'è questo virilizzatore russo che si chiama nicolai tekorkov che dice voi in italia bevete io bevo 20 litri di voi che guido aereo con un dietro voi bevete il mandarinetto di sola bella e crollate come seno di mare venire e dice che gli italiani e voi italiani siete tutti noi siamo tosti voi siete invece flosci siete una manica di flosci e appunto lui arriva con siccome la picella di putin arriva per virilizzare l'italia ci riuscirà non ci riuscirà chi può dirlo e tutti questi personaggi diciamo il l'incontro in questo spettacolo perché sono appunto questo prototipo di cittadino di brava persona a cui è stata tolta la cittadinanza proprio perché sono una brava persona troppo brava troppo bravo troppo onesto e quindi mi tolgono la cittadinanza e mi fanno incontrare questi personaggi questi anche altri che poi ci sono all'interno di questo spettacolo per la regia di francesco brandi che mi ha aiutato anche a scriverlo e incontrare questi personaggi saranno una sorta di tutorial che mi insegnerà a procurarmi una tessera da falso invalido a evadere il fisco ad accedere a muti che non mi posso permettere per farmi riprotestare ma tanto li avrò intestati a qualche vecchia zia magari deceduta si magari del 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 15 dico ma che c'ha cent'anni e si può anche avere cent'anni max ma scrivendo un uno spettacolo così si ha l'impressione perché immagino che sia uno spettacolo che appunto da quello che ci dicevi è molto legato a quello che ti succede intorno a quello che 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 a quella che è la vita nella quale viviamo ecco hai mai l'impressione leggendo il giornale che come dire t'abbiano superato a destra nel senso che in qualche modo la realtà sia la realtà è sicuramente peggiore cioè nel senso la realtà in tutti i modi peggiore quindi secondo me più che la cattiveria è inutile secondo me fare una c'è questa retorica che si fa la satira è morta la satira non è morta la facciamo dentro casa facciamo a scuola da quando siamo piccoli prendiamo per il culo il professore il capo ufficio noi cioè l'italiano in qualche maniera vuole sbeffeggiare il potere quindi noi la satira ce l'abbiamo dentro poi abbiamo anche degli altri difetti però non prendere troppo sul serio il potere è una cosa assolutamente sana quindi la satira non è morta non morirà perché ce l'abbiamo proprio nel dna il comico è stato superato a destra quindi secondo me l'unica alternativa almeno personalmente è cercare di trovare una chiave leggera che vada a punteggiare quello che è stato magari ecco c'è degli avvenimenti o delle tematiche che sono magari anche gravi anche brutte oscure no in qualche maniera quindi affrontarle con leggerezza e cercare di laddove ci riesci ovviamente però di cercare di tirare fuori qualche cosa che non è stato detto provarci in qualche maniera cercare di andare un po' in profondità perché questo secondo me è un compito che ha chi cioè che secondo me è obbligato a fare chi fa comunicazione e non fermarsi insomma alla parte più esterna però ecco l'essere cattivi non né mi riguarda né secondo me è un momento in cui è necessario esserlo perché appunto la realtà ci ha già superato cioè come fai a essere dopo che ti guardi dieci minuti di telegiornale come fai a essere più cattivo di così cioè come impossibile come fai a far pensare alla gente vedi questo questo fa satira ma che è satira con gente cioè non è possibile in questo momento essere più cattivi bisogna essere cercare di essere più acuti cercare di essere non lo so più saggi pur rimanendo sull'idea che siamo dei buffoni comunque che spariamo cazzate quindi rimaniamo ecco in quell'ambito non siamo né filosofi né però esiste ecco una distanza di mezzo nella quale poi ci possiamo muovere al di là del virilizzatore che arriva dalla russia quali sono altri curiosi personaggi che in qualche modo beh ma molto mi ha suggestionato negli ultimi proprio negli ultimi anni mi ha suggestionato tantissimo lo chef antonino cannavacciuolo che fa questo programma che va su sky ma credo che cucina da incubo ma anche altri fa anche vedere quando cucina lui insieme a qualche apprendista che riceve queste manate poi come lui io l'ho conosciuto cioè l'ho conosciuto gli ho stretto la mano e bastava cioè ha una mano che è grande come la serie dove dove stai seduto e me l'ha stritolata il fatto complimenti tutto un po diciamo non gli ho detto che gli facevo l'imitazione sua alla radio perché mi sembrava riservato no e e lui come ti ha risposto così mi ha dato la mano a roma si dice ciancicato cioè nel senso me l'ha ridotta un come dire di do praticamente quello che usano i bambini la mia mano era una praticamente vabbè e faccio lo chef cannavacciuolo salverà l'italia e una rubrica che facciamo a ruggito del coneglio su radio 2 e lui praticamente entra nelle sedi di partito e spiega a quelli che stanno dentro cosa devono fare per migliorare sedi da incubo sedi da incubo e li pista a tutti quanti quindi entra nel movimento a 5 stelle fa di battista ma cos'è questo questo ti si è perso capito dentro al minestrone del senato e si sentono queste queste botte tipo bud spencer e lui è molto bud spencer oppure che ne so entra dentro la sede del pd o nella sede di forza italia e pista tutti quanti cioè però bonariamente diciamo li stimola li stimola bravo esattamente poi c'è fran dario franceschini che parla della nostra straordinaria contemporaneità stiamo vivendo un momento di straordinaria contemporaneità lo dico sempre ragazzi le nostre opere il nostro i nostri monumenti ci stanno rilanciando in europa intanto 60 è crollato un pezzo di pompei vabbè di rovine ce ne abbiamo tante dunque si può anche andare avanti dicevo noi stiamo stimolando i turisti a venire a vedere le nostre straordinarie opere di straordinaria contemporaneità è crollato è crollato è crollato la torre di pisa ma tanto pendeva cosa possiamo farti prima poi doveva accadere e va avanti in questa maniera fin quando alla radio probabilmente gli crolla tutto addosso a lui invece in teatro ci abbiamo 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 trovato un altro escamotage e che affonda venezia e dopo facciamo onda su onda arriva in quel momento esattamente potresti inserire anche un 4 5 olandesi in giro per roma sotto i polli assolutamente ma anche di più è nel senso non siamo timidi nel tifosi del feynor mettiamo non generalizziamo però in questo momento diciamo il cuore è il cuore diciamo che ha un po preso il sopravvento senti di rispetto alle ispirazioni abbiamo detto che appunto sicuramente ci sarà la lettura dei giornali rispetto a quello che appunto poi ti stimola abbiamo detto che alla base e all'origine c'è una una citazione letteraria quella del conte di monte cristo ma ma poi per la creazione dei dei personaggi anche gli incontri o le non so le persone che vedi per strada una volta perdone appunto mi raccontava che no alcuni dei suoi tic dei personaggi con i tic erano poi appunto il portiere piuttosto che sì perché in qualche modo sai cosa succede che tu vedi vedi quel quel personaggio che magari al bar sta parlando degli affari suoi tu in quel momento non riesci a non sentire quella voce ad esempio io un tempo fa stavo all'aeroporto non mi ricordo dove andare dietro di me c'era uno ah no dentro l'aereo stavo c'era uno antipaticissimo che parlava in questa maniera no perché io ho detto le vendite sono benissime anche perché perché questo e allora se tu non viaggi e allora vai cagare cioè viaggiare vuol dire che non hai mai viaggiato se tu viaggi vuol dire che uno o due volte mese non hai parti se tu parti sei partito se non hai parti non viaggi allora se non viaggi non hai partito le viaggi se tu non sei uno che dici che viaggi allora viaggiare vuol dire cioè mi schiassi non andai andare no cioè prendere che mischi allora vediamo che viaggi cioè questo era viaggiare o partire questo dire no lui era parlava del fatto che se viaggi devi fare tutta una serie di cose cioè che il viaggiatore deve fare secondo lui lui aveva però era uno di questi sicuramente da come parlava e da come era entusiasta era uno di questi diciamo sicuramente di mestiere faceva il venditore sicuramente usciva qualche anno fa stava qualche corso di pnl con qualche matto sadico di questi che fanno i corsi per cercare di spillarti i soldi e per fare in modo là dove ti dice bene che che tu diventi come loro quindi che diventi anche tu uno spillatore di soldi sostanzialmente se ne vedono sempre di più di di persone così e questo fa una tristezza infinita però però è un dono questo max nel senso che io no non quello di spillare il fatto di avere questa capacità di vedere di sentire vedere gli altri pensando a quello sì nel senso che io mi sarei messa le cuffiette avrei fatto di tutto per non sentirlo tu invece sei stato lì e ti è ripasso lì la cosa un po fa parte del lavoro il dono sta nel fatto che tu hai la possibilità di poter sbeffeggiare perché ecco laddove tu ti tieni per te una cosa del genere è sofferenza quindi metti le cuffiette appunto te senti musica piuttosto sentivo un individuo del genere in altri casi forse dalla Ruperdea non lo so insomma o qualcosa del genere e il dono è la possibilità poi di poter di poter di poterne fare qualche cosa ad esempio c'è anche questo cantante che si chiama Lecca Julio che che utilizzano lo spettacolo con un'idea che ho avuto sempre lì arruggito ed è appunto uno che si vuole intortare tutti quindi che ti fa regali ti dice quanto sei bello quanto sei bravo cioè la figura la voce forte l'ammaliatore quello che ti offre cose ti dice che il domani è una meraviglia che tu sei bravo te lo canta con la mano sul cuore te lo canta con la mano sul cuore capito è una figura purtroppo molto presente in questo in quest'ultimo ventennio noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano perché spesso abbiamo bisogno di Antonio Carnavacciola è questa la verità sì esatto esattamente però quello è diciamo la parte finale prima arrivano tutti questi questi venditori di cui faremo tranquillamente a meno siamo giunti al termine fino al primo di marzo sono d'accordo su tutto con Max Bagliella questo spettacolo si chiude con la musica poi in realtà suonata e cantata dal vivo con i The Rabbits con una bella rilettura di Viva l'Italia di Francesco Regori quindi si conclude con un messaggio di speranza insomma sì viva l'Italia l'Italia che resiste perché nell'80% noi siamo un popolo di gente che resiste con grandi capacità e soprattutto in grado di lavorare e riuscire a portare arrivare a fine mese con tutti i problemi che ci sono legati a veramente vabbè senza fare ulteriori retori che tanto lo dice la canzone venite a vedere questo spettacolo e vi bacerò in bocca dicendo così non ci veniamo proprio siamo d'accordo su tutto tranne su questo ultimo punto ok allora quindi eviterò ma come se fosse fatto sono d'accordo comunque grazie ancora a Max Bagliella grazie anche io grazie